Geffran è presente anche quest'anno all'edizione dell'SPS, è anche per noi la quarta occasione per essere presenti in una fiera importante in Italia nel mondo dell'automazione, un mercato in cui Geffran è presente da oltre 40 anni e per la quale riteniamo di avere qualcosa di significativo ancora da dire rispetto ai prodotti e alle applicazioni. Quest'anno presentiamo in termini di innovazione la nostra nuova gamma di termoregolatori e cogliamo l'occasione per lanciare, così come manterremo il calendario fissato per novembre all'SPS di Norimberga, per lanciare il nostro nuovo ADV200 raffreddato ad acqua. È un momento quindi significativo per il lancio di prodotti significativi nel mondo dell'automazione, per una fiera che rappresenta per l'Italia, per il nostro paese e quindi anche per Geffran un momento significativo di lancio e di rilancio della nostra economia.